La prognosi è strettamente riservata. Il dodicenne, che ieri si è accasciato a terra mentre correva il cross della vittoria, si trova in terapia intensiva della cardiochirurgia di Treviso in fin di vita. Il ragazzino, residente a Padova, gareggiava per le fiamme oro. Aveva ottenuto solo due mesi fa i certificati di idoneità sportiva. Ieri il dramma. Si era riscaldato assieme agli altri atleti. Poi, dopo aver percorso oltre 600 metri, è caduto a terra senza riprendere mai conoscenza. Il cuore si è fermato. Immediato è stato l'intervento del medico e degli operatori sanitari. Grazie al defibrillatore, il cuore del dodicenne è tornato a battere. Poi, il volo con l'elisoccorso del suo M118 in ospedale. Una nottata di angoscia per i genitori. Il papà era sul campo di gara quando il figlio si è sentito male. Per gli allenatori e per gli organizzatori della manifestazione sportiva. Tante le domande. Perché accade un fatto così drammatico ad un dodicenne? Sul problema della... perché succede? Perché purtroppo ci possono essere delle condizioni cliniche che non sono presenti al momento della valutazione. Mi spiego. Se noi dobbiamo cercare prevalentemente forme genetiche, cardiomiopatia o malattie elettriche genetiche, lo screening ha una grande capacità di evidenziarle. Però ci sono delle forme, per esempio, infiammatorie che si incontrano durante la vita di tutti noi. Una banalissima influenza. L'infezione da SARS-CoV-2. Quindi un virus che può generare un'infiammazione acuta del cuore. Che apparentemente potrebbe passare inosservata. Cioè non dare sintomatologia. Ma lo sforzo fisico intenso potrebbe generare l'aritmia che si rende responsabile poi dell'arresto cardiaco. Sulla questione mascherine utilizzata nei primi metri della corsa dagli atleti, Patrizio Sarto non ha dubbi. Se noi pensiamo ai numeri delle persone che fanno e seguono queste indicazioni stilate dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera, ci dicono chiaramente che le cose non avvengono per la mascherina. Bisogna sempre ricordare che quando c'è un'aritmia di quelle potenzialità drammatiche, si manifesta nel 95% dei casi su una malattia del cuore. Che può essere di solito nascosta. E a 12 anni potrebbe essere molto nascosta. Poi l'appello è lanciato a tutte le famiglie perché vengono effettuate visite approfondite agli atleti. Fare la valutazione medico-sportiva. I medici sanno che devono essere assolutamente rigorosi nella valutazione. E quindi non si deve cercare il certificato che costa meno, ma la visita che è più accurata possibile. Questo è il messaggio che mi sento di dire. Tutti ora sono attorno al piccolo atleta. Mi sento vicino alla famiglia a Terminato Sarto in questo momento drammatico, vicino ai suoi compagni ed amici. Grazie.